Più tre Comarca, 78 a 75, no difesa all'americana, Planenzio, Gialloreto, vada a tre Gialloreto sul ferro, rimbalzo importantissimo di Planenzio, si va a gara tre, si va a gara tre ma che partita ha fatto Chieti senza Felicangeli e Rossi, si va a gara tre, Treviglio, Comarca 78, BLS Chieti 75 Bisogna fare complimenti a Chieti perché senza Lunghi è stata bravissima a fare l'unica cosa che poteva fare